buonasera dalla redazione di florence multimedia in studio marco gargini iniziamo dalla 11 dove ci sono code tra sesto fiorentino e peretola in direzione firenze sempre in a 11 per lavori stanotte in orario 22 6 e chiusa l'uscita di pistoia provenendo da pisa chiuso anche lo sveicolo di lucca est in entrata sia verso firenze che in direzione di pisa in uscita per chi proviene da pisa chiusa l'entrata di sesto fiorentino verso firenze per la viabilità cittadina firenze in via senese all'altezza dei civici 93 95 fino all'otto giugno è previsto un restringimento di carreggiata con divieto di transito ai veicoli con larghezza superiore a un metro 80 muoversi in toscana info è un servizio in collaborazione con regione toscana città metropolitana e comune di firenze anche per oggi è tutto a domani buon viaggio grazie a tutti